Ci siamo riusciti cari amici, le telecamere di Linea Gorizia sono finalmente riuscite ad entrare al Marte d'Italiano. Questa è veramente un'esclusiva perché non avete mai visto una di queste serate in giro nelle altre televisioni locali anche. Linea Gorizia Telepordenone vi fa vedere veramente il top. Eccolo qua, la serata più in di tutta l'estate 2004 a Lignano Pinetta, Lignano Sabbia d'Oro. Fabio Fritelli, eccolo qua in console insieme a Tommy De Sica e a tutto lo staff del Marte d'Italiano che vi ricordiamo per 5 serate si è trasferito dal Venus al Camergerita per problemi di capienza perché la gente è talmente tanta cari amici che il Venus era ormai diventato impossibilitato ad ospitare tutta questa gente. Ci ascoltiamo un po' di sana musica, vediamo le belle ragazze del Marte d'Italiano ma poi sentiremo soprattutto Fabio. Vai! Ed ecoli qua gli amici, ecco qua i vari tavoli che nel corso dell'intera estate si sono divertiti e si sono divertiti insieme a Fabio Fritelli, Nando Conte, ricordiamolo, ma tutto lo staff è veramente vincente. Questo è il martedì più in dell'estate 2004 a Lignano. Cari amici il Marte d'Italiano ce l'abbiamo, ce l'abbiamo come Linea Gorizia. Vi facciamo vedere le immagini del Camergerita e vi ricordiamo che ancora per martedì 17, quindi cari signori, dopo il programma tutti in discoteca, tutti a Lignano, tutti al Marte d'Italiano e forse forse Fabio vi farà un regalo perché forse, dico forse, martedì prossimo ci sarà ancora un Marte d'Italiano al Camergerita. E comunque l'estate non è ancora finita, ci sono ancora delle belle serate da trascorrere al Camergerita e al Venus perché il Marte d'Italiano a breve si trasferisce per la grande chiusura. Adesso musica! E siamo insieme al capitano di questa grande chiusura. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, siamo felicissimi di essere qui in trasferta al Camergerita col Marte d'Italiano, è andata bene, siamo contenti. Senti Fabio, qual è il segreto di questo successo che va avanti da anni e che quest'anno vi ha fatto anche trasferire per far arrivare più gente? Alla fine la semplicità da riuscire a far cantare la gente, canzoni che conoscono tutti e quindi gente che gode a cantare, a parlare e a ripetere le parole che conosce ascoltando dalla radio. Abbiamo visto un'infinità di belle donne. Senti Fabio, tutto questo dove potremo proseguire dopo l'estate? Allora è importante, tutto questo dal 25 settembre sarà Royal a Pordenone, ricordatelo. Buona serata Fabio e buon lavoro. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.